Siamo qui davanti al liceo Einstein in via Bologna. Il liceo è stato occupato. Ci potete dire per piacere quali sono le ragioni dell'occupazione? Abbiamo iniziato questa occupazione lunedì, ovvero ieri, partendo da tre grandi motivazioni che ci hanno spinto a portare avanti questa scelta. Innanzitutto l'alternanza scuola-lavoro, continuando il percorso dell'anno scorso, ha visto mobilitarsi più di 60 scuole occupanti e anche più di 10.000 studenti in piazza il 18 febbraio, il 4 febbraio eravano 4.000. Quindi per continuare sempre questo filo rosso di lotta abbiamo continuato a occupare la scuola. In più anche tutto il discorso del nuovo ministro del merito e dell'istruzione che quest'anno è entrato in carica, ovvero Giuseppe Valditara. Giuseppe Valditara è un leghista che ha partecipato anche a scrivere la riforma Gelmini in veste di relatore e quindi sappiamo già benissimo quali sono più o meno la direzione che vuole prendere. L'abbiamo visto comunque anche in tutti i talk che ha effettuato, come parla in questo modo di orientamento in base alle situazioni del mercato nel territorio, in base all'orientamento delle medie, parla di autonomia differenziata per quanto riguarda gli stipendi dei professori. Quindi per quanto riguarda l'umiliazione, che è sempre un fattore che Valditara ha espresso più riprese durante i suoi talk, parlando di questa come un fattore fondamentale della crescita. Noi con ironia diciamo sì è vero, questo è un fattore fondamentale della crescita nella misura in cui serve a riprodurre sempre degli attori che riproducano sempre questo tipo di rapporti tra imprenditori e sfruttati. Ecco, quindi imprenditori, quindi riconoscete sempre Confindustria come la vostra controparte immagino. E poi ancora, cos'è successo questa mattina? Perché le forze d'ordine hanno tentato di rompere, ci sono stati dei contatti fisici, raccontate un po'. Stamattina abbiamo bloccato le lezioni, abbiamo costruito questa barricata per evitare l'ingresso anche magari di esterni, vandali comunque, non sa mai. Stamattina abbiamo impedito ai professori di svolgere le lezioni per consentire ai laboratori di essere effettuati nella maniera più partecipata possibile. Adesso in corso sono presenti anche quattro laboratori, quindi questa cosa qui siamo riusciti a effettuarla. Stamattina il preside ha chiamato quindi le forze dell'ordine, che si sono presentati con quattro uffici, quattro della Digos, che hanno iniziato a intimidirci, a dirci voi guardate che la pagherete cara, la facciamo pagare, iniziando a filmare tutto. Nel momento in cui alcune persone volevano uscire, come normale che sia, se entra e si esce dall'incubazione, la Digos ha spinto il cancello provando ad entrare, cosa che noi abbiamo impedito. mettendoci fisicamente di fronte, e quello che è successo è che un funzionario di Digos è continuato a spingere, strangolando addirittura un ragazzo, usando una fisicità molto esplicita. Grazie mille ragazzi!